E intanto andiamo al ritrovo The Lost Che è praticamente a casa Sei una testa di minchia Ciao a tutti ragazzoli bentornati sul mio canale Altra missione di GTA 4 Siamo alla sesta su 7 per Ray Boccino Siamo a No Way on the subway da numero 58 Dopo che la scorta siamo scappati da un museo Ed è stato ragazzi difficilissimo Non siamo morti veramente di così E oggi speriamo di non dover incombere nelle stesse difficoltà Intanto like, iscrizione al canale e campanella attivata E noi partiamo perché c'ho lo stabilo, perché c'ho la scaletta vicino scusate Va bene, vamos dai Ci eravamo lasciati qui la missione scorsa Ne siamo sempre vestiti da monnezzari E sapete cosa? Mi va anche bene così Il ristorante di Ray Boccino No Way on the subway E io ho il problema di trovare qualcuno Sì, ho appena avuto qualcosa Quindi abbiamo sentito alcuni dei bambini dopo l'argento Potremmo potremmo dealare con i bambini Calmatele Sono causando problemi sul corner di Bauxite e Exeter Certo Inoltre Tu e Raymond qui abbiamo un problema serioso I bossi hanno bisogno di pagare Anche quando le persone forgettano di raccontare le cose Sono lavorando Non ho messo i miei bambini Qual è il punto di parlare di cose senza diventare reale? Sono sicuro Questo dovrebbe essere Phil Bell Che ci darà qualche lavoretto Non tanti, eh Ci dovrebbe dare, credo, quattro Se non vado errato Intanto andiamo a ritrovo The Lost Che è praticamente a casa Sei una testa di minchia Cioè No, non posso fare il commento Non posso, non posso Non posso Non posso Mi chiuderebbero il canale Facessi il commento nel 2022 Quindi Sorvoliamo Intanto vado contro mano Perché è swag andare contro mano Mi girano i coglioni Perché ho già perso Tipo quasi tutta la vita Per colpa di questa minchiata E poi perché non ti togli il giubbotto Quando succede questo No Ovviamente V citation All right Nooo Babbè almeno ci ha rimesso dritti Quindi se io sostanzialmente adesso morirò Saprete benissimo perché Grazie Dove cazzo devo andare? Ok qua Che c'è? Dov'è il problema? Ok immagino ci sia da prendere quella moto laggiù Esatto Ok siamo sulla radio giusta Allora fatemi leggere che poi magari fallisco come l'altra volta Ok insegue ed elimina perfetto Ragazzi I giochi sono aperti Ma tanto come in minimo come in No Love Lost Non li scalfirò manco per sbaglio Finchè non si fermano Nooo Grazie bradri mi ha aspettato comunque ragazzi In quanto tempo ci farà fuori il treno? Si aprono le scommesse Ok quindi praticamente Il treno contrario arriva da sinistra Ok Oh Quasi quasi me la fa sbagliare apposta la mira eh Fuori uno Oddio Oh raga Non si decompone Sì non si decompone Si decomporrà Ma non ci scompone Questa brutta merda oh Dai muorimi adesso per favore Che rientro qua No Ragazzi manco lo scalfisco Che cazzo sta succedendo ragazzi Oh È incredibile Sì aspetta che salgo sul treno Aspetta Lo sapevo Lo sapevo Sono praticamente morto Ho bisogno della stamina Ma poi perché non ti toglie la salute dal giubbotto? Cioè che senso ha averlo? Ora morirai vero? Se ti chiappo muori Cioè mettiamo fine a sta cosa Che culo Ciao Proprio sul filo del rasoio ragazzi Tra l'altro non avendo neanche più l'appartamento qua Da mo' tra l'altro Non posso neanche andare a riposare E recuperare la stamina Ok la missione Ok la missione era anche abbastanza semplice Solo che Sono arrivato da moribondo E praticamente l'ho completato da morto Sto cercando un taxi Uno Uno solo Eccolo Devo assolutamente recuperare la stamina Se no sono cazzi No non mi mettere sotto Se no alla fine davvero Va bene ragazzi Io Qui La nostra casina Vi saluto Lasciate like al video Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo alla prossima Con la settima su sette per Rebocino Dove sarà Weekend at the Florians Dove Florian è quello che stiamo cercando E quindi Praticamente la missione richiesta da Nico questa Che deve uccidere evidentemente un personaggio Che non gli sta tanto simpatico Noi ragazzi Ci vediamo Bacione Like Iscrizione Campanella Alla prossima